Com'è la deputazione? L'abbiamo fatto in modo frontale, singolo, rappresentando le singole problematiche. Adesso noi vogliamo sviluppare un dialogo continuo, permanente, come cabina di regia, rappresentando le istanze non solo di 2.800 aziende, ma anche di professionisti, anche di famiglie, anche di cittadini, di contribuenti, perché noi siamo un soggetto politico che svolge attività di rappresentanza datoriale, ma viviamo anche la responsabilità dell'ente bilaterale dove facciamo le conciliazioni, sappiamo qual è la condizione socio-economica sul territorio e quindi vogliamo rappresentare non solo le istanze, ma dando anche percorsi. Ad esempio, se parliamo di sanità privata, spesso molte strutture operano fino al mese di novembre-dicembre senza avere nemmeno il budget preventivo e si ritrovano nelle condizioni di aver erogato dei servizi che non gli verranno riconosciuti, per non parlare poi dei pagamenti, perché spesso sono bloccati da burocrati. Il problema legato anche ai trasporti e alla mobilità è da anni che si parla, ora si deve eseguire necessariamente questo collegamento con le due strutture aeroportuali che abbiamo sul territorio, Comiso e Fontana Rossa, perché il nostro territorio nel momento in cui una parte dell'industria è avviata verso il viale del tramonto, nel momento in cui la pubblica amministrazione non assume più l'unica risorsa dall'agricoltura di nicchia, così come da altri piccoli settori, ma il polmone più grande è il turismo, per il turismo ci vuole ricettività, ma in termini anche non solo di accoglienza ma di informazione. Il deputato è un nostro dipendente, cioè il deputato è il dipendente del cittadino, loro sono sostenuti con le nostre contribuzioni, svolgono un ruolo, gli riconosciamo quelle che sono le prerogative e le devono esercitare, non possono poi giustificarsi con ordine di segreteria. I deputati sono espressione del territorio, devono lavorare per il territorio. Io vorrei ricordare a livello infrastrutturale come siamo messi, non abbiamo autostrade, le ferrovie lasciano a desiderare tutta la parte sud, non è neanche elettrificata, andiamo ancora a Littorine. Ovviamente ci sono gli investimenti importanti da fare, quantomeno completare quello che riguarda la Rosolini Modica, c'è il progetto già approvato per quanto riguarda invece il tratto successivo fino a Scigli, ma mancano ovviamente le coperture finanziarie che dovrebbero essere prese su fondi europei. E in più lo Stato deve fare la sua parte, da questo punto, dalle infrastrutture. Si deve puntare una volta per tutte per il turismo, ma al turista dobbiamo dare servizi. Bisogna rinvestire, cercare di efficientare servizi che ci sono, cercare di fare investimenti mirati, fare un premio triennale anche degli eventi, perché non si possono fare eventi così solo per sponsorizzare, per darlo all'amico, per fargli un favore all'amico, ma quello che serve veramente per attrarre il turista e farlo venire qua anche in periodi di bassa stagione. E poi ci sarà la sanità, tre anni fa fu acceso un mutuo da un miliardo di euro, di cui 700 milioni da dare alle aziende sanitarie proprio per compensare questi debiti, ma mi pare che ancora come ritardi e pagamenti siamo sempre lontani dalla puntualità. Caffeo è già questo un segnale, è una politica che ritorna ad ascoltare? Noi abbiamo caratterizzato tutto il nostro impegno sull'ascolto e continuiamo a farlo, anche perché siamo convinti che comunque bisogna partire dagli errori del passato, dagli errori della politica, rimettersi in discussione, cercare di percepire proprio che il ruolo della politica è quello di un ruolo di ascolto e di guida del territorio, per cui sono ben lieto oggi di essere qui in ConfCommercio e sicuramente a mio avviso la politica deve provare anche a stilare più un modo di lavorare, deve cambiare in provincia di Siracusa anche il modo di lavorare, di relazionarsi sia tra la politica, sia tra le organizzazioni di categoria e sia tra vedere di portare avanti un progetto comune per il territorio che sia un progetto condiviso. Grazie. 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 Grazie.